ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale allora questo è un video haul avete già letto dal titolo per cosa vi farò vedere stavo facendo il mio giretto sono stata un paio di giorni fa alle porte di catania ma oggi sono stata al centro sicilia e ho rimesso il rossetto proprio per darmi una rinfrescata e volevo farvi vedere cosa ho acquistato mentre facevo il mio giro ovviamente andando al centro sicilia dove sono andata da primark ovvio infatti ci sarà un video solo di primark mentre facevo il mio giro sono entrata da kiko lo faccio spesso per vedere se c'è qualcosa di particolare se ci sono sconti perché ormai si acquista solo ed esclusivamente con gli sconti ma mentre ero lì ho visto che c'era la nuova collezione e ho dato una sbirciata in caso poi vi metterò il video di questa sbirciata perché l'abbiamo ripresa con il cellulare è una collezione molto bella sui toni del rosso e del dorato infatti la diciamo questa collezione natalizia che si chiama jolly full holiday è molto carina devo dire però diciamo il pecco è un po particolare perché a forma di palla infatti la commessa diceva che era come se fossero tipo dei delle palle di natale da mettere sull'albero però a dire la verità il succo proprio della collezione ho visto molte ripetizioni ma come in tutte le collezioni è normale i colori sono quelli non è che dice ci possiamo inventare chissà che cosa però vi faccio diciamo una carrellata perché l'ho ripreso col cellulare quindi vi dico quello che c'era per lo meno quello che c'era allo store del centro sicilia oggi allora la prima cosa che ho notato sono i fondotinta sono fondotinta liquidi otto colorazioni e vengono già con il piccolo pennellino ed è una cosa molto carina poi abbiamo l'illuminante 2 in polvere e 3 liquidi poi mi piace tantissimo la palettina viso dove c'è la terra il bronzo e l'illuminante il blush è molto carina poi abbiamo le tre colorazioni di blush sempre le stesse colorazioni dobbiamo anche dire anche questo poi abbiamo le terre molto carine anche quelle sempre le solite due colorazioni e quelle che state vedendo sono le ciprie le cipre sono matt ma anche della tanti mancano alcuni prodotti come notate nel video però dice che una cosa normale devono arrivare le altre cose infatti di quello che vedete non vi so dire il lessiero è uguale a quello che ho preso l'anno scorso e poi ci sono queste due maschere sia per il viso sia per il corpo poi abbiamo i soliti rossetti soliti lip balm colorati e questi rossetti hanno la stessa fantasia dell'anno scorso poi abbiamo gli smalti una cosa particolare poi abbiamo le tre palettine manca la palette quella grande per il viso le matite occhi gli ombretti singoli gli ombretti in crema e poi tutta questa vastità di rossetti in stilo in bullet carini ovviamente ho preso due cose in croce perché sinceramente le altre cose mi sembravano simili a tutte le altre che ho quindi volevo qualcosa di particolare le matite duo già le abbiamo prese altre volte anche le palettine abbiamo preso altre volte però questa è diciamo più particolare perché da tutto quello che ho visto era quella che mi ha colpito di più ed è questa ed è una palettina che si chiama bright bright dream e shadow palette nella colorazione 3 green e sop perché le altre erano simili a tutte quelle che ho preso in precedenza nel senso di colori tipo questa tipo queste così i colori erano molto molto simili quindi sinceramente non mi sono sentita di prenderla perché anche questa dell'edizione natalizia di due anni fa vedete i colori sono sempre simili e quindi ho pensato di prendere qualcosa di particolare che non avevo il packaging questo è della scatolina ovviamente e questo è il pack che potete diciamo appendere nell'albero di natale quello che vi fanno vedere e questo è il packaging a queste puntine in rilievo ed è a forma diciamo rotonda e il prodotto ovviamente possiede uno specchietto e i colori sono questi ovviamente sono colori che io non ho nelle palettine di kiko nessuna diciamo palettina che io posseggo e mi piaceva tantissimo proprio questo questo verde dove questo verde qui mi piaceva tantissimo perché ho preso una camicia da shane proprio di questa tonalità e mi piaceva tantissimo adesso ve li suoccio proprio ci passo il dito così e così sono molto molto setosi e questi sono i colori c'è molto molto bella io quando l'ho sbocciata mi è piaciuta tantissimo ovviamente questo diciamo è lo swatch sul sulla mano però dobbiamo vedere come la tonalità anche sugli occhi e sono molto curiosa di provarlo infatti quando metterò quella quella camicia indosserò sicuramente queste cioè quando indosserò la camicia metterò sicuramente questi ombretti e ovviamente un'altra cosa che mi ha colpito più di tutto di tutto quello che c'era è questo infatti l'altro pack è questo sul dorato ed è un jolly full holiday ed è un eyeshadow couple goals si chiama nella colorazione 3 ce n'erano 3 e questo è il terzo mi è piaciuto di più di tutti il pack è così e la particolarità ve la faccio vedere nella parte di sopra si apre e c'è questo ombretto bellissimo ovviamente c'è anche lo specchio questo è l'ombretto è velocivocio ed è simile c'è simile è un verde ottaneo ed è così questo qua ma la particolarità sta nel girare e questo è l'ombretto proprio che si intona diciamo che sta bene con questo vedete questo è un ombretto in crema quindi potete fare anche una combo diciamo vedete mi piace tantissimo quando l'ho visto tra tutti quelli che diciamo erano esposti erano esposti questo era quello che mi piaceva di più in assoluto e l'ho voluto prendere i prezzi mi sembrano un po esagerati e me li sono anche scritto allora questo ombretto duo è costato 14 euro e 99 quindi 15 euro il lip gloss perché c'erano anche del lip gloss costavano 9 euro e 99 poi i blush 16 euro e 99 maschere viso 15 e 14 e 99 l'illuminante 14 e 99 i prezzi devo dire che sono abbastanza alti poi abbiamo quello che ho preso io dov'è il fondotinta 20 euro e 90 c'è un fondotinta 20 euro e 99 mi sembra caro ve lo dico proprio sincera la palettina occhi tre colori 16 euro e 99 l'ho pagata quindi mi sembra un po cara come diciamo collezione comunque andiamo avanti ovviamente mi dovete dire cosa avete preso se avete preso qualcosa di questa collezione andiamo avanti sono stata in questo negozio alle porte di catania perché questa è colpa di giulia cove ovviamente perché mentre guardo i suoi video prendo appunti e faccio anche lo screenshot per vedere cosa devo acquistare e lei ha suggerito questi due prodotti che riguardano wet and wild della marca wet and wild il primo è il primer lei dice che è un ottimo primer io mi fido tantissimo dei suoi consigli infatti lei ci ha azzeccato in tutto molte dei miei acquisti sono per colpa di giulia cova quindi vi faccio sapere questo allora questo è il prodotto ovviamente come vi ho detto di wet and wild ed è un primer per il viso dice che è un ottimo primer veramente lei è contentissima di questo prodotto lo utilizza tantissime volte infatti lo mette nei preferiti per quanto riguarda il low cost quindi l'ho voluto prendere non lo apro perché sto smaltendo alcune cose quindi ci sarà anche quel video particolare ha 12 mesi di scadenza ed è un flaconcino di 25 ml quindi direi che è un ottimo prodotto e vi dico anche il prezzo perché non è costato poco allora il primer the impossible si chiama si è costato 8 euro e 29 poi mentre ero lì ho preso anche un altro prodotto che lei dice che è ottimo ed è questa qui ed è una crema colorata lei la chiama una crema colorata della wet and wild sempre ed è c'è scritto crema colorata effetto pelle morbida lei dice che è ottima se diciamo non avete tante imperfezioni io non ho tante imperfezioni quindi mi piacerebbe utilizzarla ha 27 ml di prodotto e io ho preso la colorazione fair la più chiara ve la faccio vedere qua perché ovviamente io non sono scura vedete credo che sia la tonalità giusta e questa l'ho pagata 7 euro e 99 non c'era nessun tipo di sconto però mentre che c'ero io non esco tantissimo quindi mentre che c'ero l'ho voluta prendere la proverò in caso se voi l'avete utilizzata fatemi sapere qualche cosa poi sono stata da OVS e ho preso due cosucce che erano quelli che volevo prendere dal sito e poi non c'erano più questi li volevo prendere direttamente da Cosmetic for Less perché avevo fatto un ordine ma non c'era più e quindi le ho presi direttamente qui all'OVS delle porte di Catania esattamente sì delle porte di Catania OVS Underwear allora se sentite urla fuori non ci fate caso allora per prima cosa ho preso questi due primer che sono un sieri scusate non sono dei primer solo dei sieri e l'avevo visto il liquido l'avevo visto su alcuni video e questo dice che è un siero viso in ampolla effetto calmante con acqua di lavanda vabbè un gocce vabbè ok dice anche come applicare questo con acqua di lavanda questo invece è un siero viso in ampolla effetto energizzante con il 2% di vitamina C questi e ho voluto prendere questi due sono molto molto carini questi qua questi devo dire che il packaging mi colpisce tantissimo si apre ruotando ovviamente e qui c'è l'ampolla vedete credo che dovete premere questo bottoncino e vi esce il prodotto ovviamente come vi ho detto sto cercando di non aprire tanti prodotti perché prima voglio smaltire alcuni perché vedrete a breve il decluttering nel senso che già l'ho girato e piano piano lo metterò online perché è stata molto dura durava tantissimo e l'ho dovuto spezzettare perché ho tantissimi prodotti infatti questi sono alcuni diciamo stracci di acquisti ma non ne farò tantissimi ve lo dico perché ho preso i calendari dell'apriento e quindi non farò altri acquisti comunque questi sieri li proverò e vi farò sapere ovviamente se li avete provati ditemi come vi trovate con questi prodotti e vi dico quanto è costato questi 4,99 euro e loro li chiamano tonici l'altra cosa che ho preso è questa ed è un fondotinta di essence sapete tutti che a me piace tantissimo il fondotinta idratante che io posseggo e questo è il pretty natural hydration foundation 24 ore long lasting e io ho preso la colorazione 30 perché credo che sia buona per me nel senso che sono chiara tipo cadavere ho sentito parlare benissimo di questo fondotinta e quindi lo volevo provare questo è un fondotinta idratante con acido ialuronico e aloe vera è una formula leggera a lunga tenuta per un incarnato e un finish naturale è una sensazione leggera sul viso sinceramente avendo provato l'altro il fresh and fit di essence ho visto che tutti parlavano bene di questo prodotto e quindi l'ho voluto prendere speriamo che la colorazione sia azzeccata perché non c'erano tester quindi nel senso c'erano alcuni nelle colorazioni scure ma in quelle nelle colorazioni chiare non c'erano e quindi non l'ho potuto diciamo sbocciare e questo fondotinta l'ho preso a 6,29 euro questi sono stati i miei mini acquisti per quanto riguarda il make up vi ripeto non sto facendo tanti acquisti perché mi sto dando le ginghiate io stessa comunque ditemi cosa ne pensate se avete provato questo fondotinta ditemi se vi trovate bene e se specialmente avete preso qualcosa della nuova collezione di Kiko fatemelo sapere perché sono molto curiosa perché sì ho sbocciato qualche cosa però ero indirizzata sui calendari dell'avvento quindi non potevo diciamo prendere tantissime cose però le cose che per me valevano di più e che hanno colpito il mio radar sono state le palettine viso e questo ombretto duo sinceramente sono stati questi due i prodotti che mi hanno colpito di tutta la collezione ditemi cosa ne pensate giù nei commenti vi aspetto ovviamente in tanti e così vengo a spulciare anche i vostri video cosa avete acquistato e cosa vi interessa di più della collezione per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao